Slitta ancora di qualche giorno la chiusura della Villa Medeo, un provvedimento momentaneo che permetterà di realizzare i lavori previsti al suo interno. Cancelli ancora aperti dunque nella villa di Via La Regina Margherita, dove intanto è stata delimitata una zona vicina all'area giochi per bambini. A breve dunque dovrebbero partire gli interventi che, grazie al contributo ottenuto dal comune di circa 350 mila euro, permetteranno alla Villa Medeo e alla Villa Cordova di rifarsi il look. Si prevede infatti la manutenzione straordinaria dei servizi igienici e degli immobili annessi, delle fontane, ma anche la messa in sicurezza delle alberature, sistemazione del verde e poi ancora interventi sui giochi e sull'illuminazione, anche se in termini differenti, nelle due ville. Nella Villa Medeo inoltre verranno anche ripavimentati i viali principali.